Ma chi è il stu a chi? Orca a chi è la figa, oddio. Laga do gambe ad selaro? Però in compenso laga un sgior culo? Bisogna chiacca a capessa, basta solo chiacata un argomento. Cioè, vara che a tsono di sentire, tani è minadrio pensare e basta, a tiedrio parlare ad alta voce. Ciao, satt per casi la quota da d'matina? 50 kg. In che zona? Canale mota ad omistrin. Ve anche i recuperi? Ciò ma parchi matciapà, parli Enriqueita? Scusa a jera tant parciacarare. Ma ascolta una roba ma da quando toglie anche i scatulun come soci in tal consorsi? Ha son fiol d'un socio anche a mi. E toma ma così la, un taccapagni ad l'Ikea? Più o men. Ecco, i brisa normali vien tutti da mi. Ascolta una roba, sa fatti stassi radbelo? Andi fuori a me e ti? Ma io e te drio scherzare? Ciò castronza, perché? Dai, a tì è un scatolone. Ma glattal sniausso immessa i gambe almen? Stena accuntarsla tutta la sera dopo? A tì è proprio una sfacciata. S'aggessi al culo ad cazzaravuna scoresa. Va a ramengo. E invece mi aglo e attla cassa ad lungo. To, ti. E cal scatolon che alta a caga. Lei la dona ad la me vita.